E poi volevo sapere se può dirci a che punto è Demme, se è perfettamente recuperato al sistema, detto che in Champions era fuori lista e quindi non avrebbe potuto comunque giocare. E poi? Demme sta benissimo, ha recuperato in pieno e meno male che ha recuperato perché con le cose che succedono siamo contenti di averlo recuperato.